...a chiunque... ...a chiunque, ovviamente a chi l'ha visto. Ciao a tutti da Chris Atticenzo, il comune del blog, eccomi con Federica Cianelli... ...e con i miei camerini. Un saluto da tutta la redazione di chi l'ha visto e diciamo sempre chi l'ha visto il lavoro e speriamo di vederlo presto. Ciao a tutti voi. Ciao a tutti e vogliamo dire un appello in più, grazie tanto di quello che voi fate, che tanti accadimenti vanno a buon fine e tanti noi speriamo che vanno sempre tutti a buon fine. Sì, infatti siamo qui a raccontare una storia di quella che abbiamo raccontato per tanti anni, quella di Elisa Klaps. Sono con il fratello e questa ragazza che stava arrivando a Uccisa dopo 17 anni mi ha chiesto. Grazie a tutti.